esiste solo ciò che si comunica e l'arte è un modo per comunicare con il mondo Per comprendere il messaggio del dipinto, è necessario leggere il linguaggio non verbale dell'opera, che si esprime attraverso i gesti, l'abbigliamento, l'espressione, la composizione nel suo insieme, i dettagli Per verificare la comprensione, proviamo a rispondere alle famose 5 W su cui si basano gli articoli dei giornali What? Who? When? Where? And especially, why? Il doppio ritratto, è stato dipinto nel 1434 da Jeanne Van Eyck, il massimo esponente della pittura fiamminga del Quattrocento, pioniere della pittura ad olio, una tecnica che si sviluppa proprio nelle fiambre in questo periodo L'opera ritrae, con esattezza fotografica, due coniugi all'interno della loro camera, lussuosa e confortevole Ma chi sono questi due personaggi? L'uomo è un ricchissimo imprenditore, Giovanni Arnolfini, italiano di Lucca, si era trasferito nel nord Europa per affari Con il commercio, aveva accumulato ricchezze, ed era a capo di un impero finanziario La donna è la prima moglie del mercante, Costanza Trenta, anche lei italiana, morta un anno prima della realizzazione del quadro Prima metà del Quattrocento, si moltiplicano gli scambi commerciali, fioriscono i centri urbani Sulla scena sociale, entra da protagonista la nuova classe della borghesia commerciale, che detiene il potere economico e politico nell'amministrazione delle città La struttura della borghesia si regge su due pilastri, la corporazione professionale e la famiglia I coniugi Arnolfini sono gli esponenti perfetti di questa potente borghesia urbana Siamo a Bruges, nelle Fiandre Quando Arnolfini si stabilisce qui, la città sta vivendo la sua epoca d'oro Bruges è un nodo strategico per il mercato del tessile, e il vicino porto di Damme è affollato di navi della Lega Ansiatica Nuove tecniche commerciali e finanziarie fanno affluire enormi capitali nelle banche di Bruges Non a caso, nel 1309 fu istituita proprio qui la prima borsa valori del mondo I due coniugi sono ritratti nell'intimità domestica Ci troviamo nella loro camera da letto, un ambiente confortevole e lussuoso Ma perché i coniugi si sono fatti ritrarre così? Sono state avanzate diverse ipotesi Potrebbe essere la foto ricordo del matrimonio, o meglio la rappresentazione cristiana del sacramento La volontà di immortalare questo evento e comunicarlo alla società contemporanea e ai posteri Potrebbe essere nata non dall'appartenenza alla nobiltà ma al ceto più potente dal punto di vista economico Potevano permettersi l'artista più costoso per la cerimonia E l'inquadratura doveva contenere l'intera liturgia La candela accesa simboleggia Cristo Il letto l'intimità coniugale Gli zoccoli che si usavano per uscire Abbandonati sul pavimento Testimoniano il nuovo interesse per l'ambiente domestico I piedi scalzi rimandano a uno spazio sacro Il cagnolino simboleggia la fedeltà La frutta e l'auspicio di fertilità L'albero di ciliegio rimanda al paradiso terrestre Lo specchio è segno di purezza Le mani che si sfiorano, delicatamente sovrapposte, indicano il vincolo matrimoniale Ma l'opera potrebbe essere un semplice ritratto dei coniugi nella loro bella casa La rappresentazione diventa allora l'allegoria dell'ideale sociale del matrimonio e della famiglia Il messaggio che comunica il dipinto è soprattutto l'appartenenza a una specifica classe sociale Particolarmente importante nel sistema economico e politico Gli abiti sono ricchi e lussuosi Un copricapo importante lui Un velo di merletti lei Un cappotto foderato di visone lui Un vestito di velluto bordato di pelliccia bianca Rara e costosissima Lei I dettagli dell'arredamento Come la vetrata e il lampadario Sono manifestazioni dello status sociale Anche la frutta particolarmente costosa nel nord Europa È un'ostentazione di ricchezza Il cagnolino completa un quadro rassicurante sulla tenuta dell'istituzione familiare Lo specchio, che riflette il pittore È l'escamotage per dichiarare che il ritratto è fatto davvero Quindi l'opera riproduce ciò che l'artista vede con i suoi occhi Lo specchio ci dice che questa scena si svolge realmente Anche altri pittori fiammiti Inseriranno lo specchio convesso nella composizione Nel quadro di Velázquez lo spazio è completato Dallo specchietto retrovisore Il parmigianino dipinge un vero e proprio selfie Come farà Escher che grazie alla sfera riflettente Include se stesso nella stanza Nello specchio dei coniugi Arnolfini Il pittore non è il solo C'è un altro osservatore Ci siamo noi Che guardiamo la scena come fossimo all'interno della camera Scatto e condivisione Van Eyck osserva l'evento e lo condivide con il mondo attraverso l'arte Costanza 30 morì molto giovane Era già morta da un anno quando il dipinto fu realizzato Quindi l'opera potrebbe essere stata commissionata da Giovanni Arnolfini Per rendere omaggio alla moglie defunta Come fosse un poetico messaggio d'amore La donna potrebbe essere morta di parto Ed essere rappresentata durante la gravidanza In effetti la pancia della signora è gonfia E la mano che trattiene il drappeggio Sembra quasi una carezza Tuttavia non bisogna dimenticare Che la moda del tempo poteva indurre ad equivoce E non è possibile stabilire Se fosse incinta oppure no Ma sullo sfondo Intagliata nel legno Appare Santa Margherita La protettrice delle partorienti Il colore verde dell'abito Fa riferimento alla fertilità Ma sotto appare l'azzurro della vita ultraterrena L'espressione dei due coniugi è dolce e tristissima E sopra le loro teste arde una sola candela Dalla parte di lui A indicare la fiamma della vita Che dalla parte di lei si è già spenta Anche la cornice dello specchio è coerente Rappresenta scene di passione verso l'uomo E scene di morte verso la donna I coniugi indossano abiti da cerimonia Difficile pensare che siano ritratti in un momento Della loro intimità domestica vestiti così Deve trattarsi di un'occasione molto importante Un rito ma non necessariamente sacro Le mani indicano un vincolo E l'uomo sembra assorto in un giuramento Il momento è solenne Ora valutiamo il contesto Le famiglie della borghesia erano fondamentali Esistevano alleanze Ma anche rivalità Concorrenza Rovesci di fortuna I matrimoni avvenivano spesso per interesse Soprattutto tra gli esponenti delle famiglie più ricche Che attraverso il vincolo matrimoniale Realizzavano associazioni Cartelli Joint Venture Fusioni di patrimoni Potevano quindi consolidare il giro d'affari E il potere I due personaggi sono immersi in questo ambiente Lo specchio Che ha una posizione centrale nell'inquadratura Restituisce la presenza di due testimoni Che assistono all'evento Il pittore firma al centro del quadro Mette nero su bianco questa dichiarazione Jeanne van Eyckfuythik È stato qui Cioè era presente al momento dell'atto E aggiunge la data 1434 Il quadro potrebbe allora essere stato commissionato come atto probatorio di un patto matrimoniale Con forti conseguenze economiche Magari messo in discussione dalla famiglia di lei dopo la morte della donna Ma quel contratto è valido C'era la volontà delle parti È stato stipulato alla presenza di due testimoni Ci sono le prove C'è la dichiarazione firmata L'atto va reso pubblico Notificato al mondo attraverso il medium dell'arte Affinché sia valido per i contraenti e per i terzi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti